Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata del corso di azzeramento di informatica. Cosa vedremo oggi? Vedremo innanzitutto l'ultimo costrutto importante che ci serve, e cioè l'if-then-else, quello che serve a prendere delle decisioni, quindi cercheremo di capire a cosa serve, e poi vedremo qualcosa, poche informazioni sui bit e sui byte, perché chiaramente sono importanti per comprendere il funzionamento dei programmi. In particolare, brevissimo riepilogo della volta scorsa, la volta scorsa abbiamo installato Snap, abbiamo fatto un primo esempio con un piccolo programma che era in grado di fare input-output, dopodiché abbiamo anche fatto vedere lo stesso esempio in C e in Python, e poi abbiamo fatto vedere anche come è possibile realizzare un'applicazione reale, naturalmente noi non siamo di certo in grado in questo momento, e insomma praticamente richiede ben altri sforzi, e poi abbiamo visto qualcosa sugli sprite multipli, e poi abbiamo completato la puntata disegnando, realizzando un programmino che disegnava un quadrato. L'esercizio proposto era quello di provare a disegnare un poligono, cioè cambiare non solo la lunghezza del lato, ma anche il numero dei lati. Quindi questa volta cosa faremo? Beh, innanzitutto risolveremo questo piccolo esercizio dei poligoni, dopodiché vedremo l'altra parte che ci manca, vi ricordo che abbiamo visto la volta scorsa le variabili e i cicli, e oggi vedremo l'IF, cioè le condizioni. Assieme a questi costrutti riescono a produrre quasi tutto quello che serve, almeno a livello di base. Dopodiché faremo un esempio, calcolo di numeri primi, poi un esempio che dovrebbe esservi chiaro, e cioè il campo di esistenza di una funzione, che mi servirà per introdurre gli operatori logici booleani, e poi vedremo appunto, come vi dicevo, qualcosa sui bit, byte, i loro multipli, le loro caratteristiche, e gli errori che possono essere dovuti al fatto che noi utilizziamo bit e byte, perché non lavoriamo in base 10, ma in base 2. E per finire vi proporrò un piccolo esercizio sul scalcolo del fattoriale. Direi che possiamo iniziare. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è caricare l'esercizio della volta scorsa, in modo tale da poter procedere a trasformare il programma come era richiesto dell'esercizio. Allora, come potete vedere, qui l'idea era quella di disegnare solo un quadrato. C'era anche però la possibilità di cambiare le dimensioni, perché se voi facevate così, lui vi chiedeva la lunghezza del lato, e a questo punto lo potevate disegnare più grande o più piccolo, il lato del quadrato, a seconda di quel che vi poteva servire. Bene, allora, innanzitutto, vedete che qui dentro c'è Ansvair qui dentro, la cosa non mi piace molto, per cui realizziamo innanzitutto una variabile, quindi costruiamo una... anzi, la variabile in realtà l'avevamo già realizzata, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere la variabile Ansvair e inserirla, come vi dicevo. Questa, vi ripeto, è un'assegnazione, quindi noi facciamo set lunghezza lato to Ansvair. Ok? In pratica, questa ask chiede la lunghezza del lato, la mette in una variabile che si chiama Ansvair, vi rivediamo il concetto di variabile, abbiamo visto la volta scorsa due concetti importanti, il concetto di variabile e il concetto di ciclo. Il concetto di variabile è molto semplice, significa che è un dato che viene messo all'interno di una scatoletta di vario tipo, stiamo qui a parlare con precisione di questo tipo, e questa scatoletta può nel tempo contenere valori che vengono cambiati da altre istruzioni del programma, e questa è chiamata variabile appunto, perché è un valore variabile. Per quanto riguarda i cicli, abbiamo qui l'esempio. A cosa serve il ciclo? Serve al fatto che normalmente io dovrei ripetere quattro volte queste tre istruzioni in fila, e in questo modo posso permettermi di fare, diciamo, di dire a Snap di realizzare quattro volte di fila le stesse tre istruzioni, senza doverle ripetere io stesso. Quindi il concetto di ciclo è anche interessante. Tenete anche conto, Adesso, vedete qui, se noi facciamo così, a questo punto noi abbiamo preso dalla tastiera la lunghezza del lato, è finita dentro ad Hansver, e dopodiché noi abbiamo fatto un'assegnazione del tipo lunghezza lato uguale Hansver. Ok? A questo punto dentro la lunghezza lato c'è quello che ci serviva, per cui qui dentro, siccome questa lunghezza lato ci serviva a muoverci della lunghezza del lato appunto, possiamo per esempio fare così, andare a prendere la lunghezza del lato e infilarla qui dentro. Ok? Bene, vi ricordo, solo per ricapitolare, una cosa molto importante, e cioè che un programma è sostanzialmente una sequenza di istruzioni. Queste istruzioni, in questo tipo di programmi che sono sequenziali, quindi non sono programmi paralleli, anche se, come vi ho detto, Snap è in grado anche di realizzare programmi paralleli, e poi vedremo qualcosa più avanti, però questo è un programma sequenziale, quindi noi abbiamo un solo flusso di dati, per cui noi partiamo dalla prima istruzione e arriviamo fino all'ultima. C'è però una particolarità, se noi avessimo un programma che tutte le volte esegue sempre la stessa catena di istruzioni, non servirebbe a molto, perché eseguirebbe sempre le stesse identiche cose. In questo caso la differenza consiste nel fatto che noi chiediamo all'utente delle informazioni, che ovviamente sono già meglio di niente. Ok? Tuttavia, in generale, vedremo che c'è il terzo costrutto, diciamo quello forse più importante, e cioè l'IF, che permette di cambiare, e lo vedremo tra poco, permette di cambiare l'ordine in cui vengono eseguite le istruzioni. In questo modo il programma può cambiare il comportamento a seconda delle nostre esigenze. Però vi ricordo che è sempre una sequenza di istruzioni. Significa che è come se noi qui avessimo una freccia che punta qua, poi all'istante dopo, diciamo dopo un breve lasso di tempo, la freccia punta qua, poi punta qua, poi punta qua, eccetera, eccetera. Qui arrivando ad un ciclo, siccome qua c'è scritto repeat 4, significa che faccio 1, 2, 3, la mia freccia continua a puntare qui, dopodiché siccome c'è scritto repeat 4 io torno qui, rieseguo 1, 2, 3, rieseguo 1, 2, 3, rieseguo 1, 2, 3, a questo punto ho eseguito 4 volte il ciclo e faccio questa e questa istruzione e ho completato il mio programma, ok? Quindi è molto importante comprendere come il programma sia una sequenza di istruzioni. Io ho scelto Snap per questo corso di azzeramento perché i blocchetti rendono la cosa molto semplice, però vi ricordo, e l'abbiamo già visto brevemente la volta scorsa, poi lo vedremo meglio, che vi è una corrispondenza abbastanza buona con linguaggi di programmazione standard quali C e Python e quindi sostanzialmente fate finta che ciascuna di questi blocchetti abbia il suo corrispondente in un'istruzione nel linguaggio di programmazione di vostra scelta, ok? Quindi per esempio questo verrebbe lunghezza lato uguale a ansvair e così via, ok? Questa è la repeat, esiste anche per esempio in C e si chiama for ed è analoga, solo che con una sintassi un po' diversa. Quindi abbiamo visto adesso che abbiamo inserito la lunghezza del lato, ma noi vogliamo anche inserire non solo la lunghezza del lato, ma anche il numero di lati, ok? Quindi per esempio possiamo realizzare una variabile numero lati, anche se abbiamo già una variabile chiamata numero, ma comunque non creiamo un'altra. Quindi abbiamo realizzato questa variabile numero lati, quindi adesso possiamo chiedere all'utente quanti lati realizzare, quindi per esempio potremmo scrivere numero di lati, punto interrogativo, ok? Dopo questa istruzione, quello che noi abbiamo scritto con la tastiera viene depositato dentro ad ansvair, quindi abbiamo bisogno di nuovo di fare una cosa del genere. Questa volta set numero lati e di nuovo ansvair, perché la variabile ansvair è stata ovviamente riscritta con il nostro nuovo valore. A questo punto cosa ce ne facciamo di tutto ciò? Abbiamo visto che la lunghezza del lato l'abbiamo messa qua, al posto di 4 ovviamente ci vorrà il numero dei lati, quindi, allora adesso noi facciamo così, prendiamo il numero dei lati e lo mettiamo qua, ok? Però non basta, perché a parte la weight, noi ci muoviamo di passi pari alla lunghezza del lato, però poi giriamo in senso anti-orario di 90 gradi. 90 gradi va bene per un quadrato. Siccome noi qui vogliamo un poligono generale, allora noi qui abbiamo bisogno di prendere dal menu operatori e in particolar modo dobbiamo generare l'angolo al volo. Come facciamo a generarlo? Vedete, sostituiamo il 90 con il risultato di una divisione, ok? E il risultato sarà della divisione 360 diviso il numero di lati, ok? Quindi qua facciamo il numero lati. Quindi in sostanza noi cosa facciamo? Abbiamo una sequenza di istruzioni, chiediamo la lunghezza del lato, la immagazziniamo dentro la lunghezza lato, chiediamo il numero di lati, la immagazziniamo dentro il numero lati, poi puliamo il nostro foglio di carta, ci poniamo nella posizione centrale, girati verso destra, abbassiamo la penna di questo nostro plotter ideale, dopodiché ripetiamo per il numero dei lati, qui 4 volte, ma anche 6, 8, quello che serve, aspettiamo un secondo giusto per dare meglio l'impressione e il funzionamento, ci spostiamo di lunghezza lato e ci giriamo di 360 diviso il numero lati. Proviamo a vederlo in funzione, lunghezza lato mettiamo 60, numero lati mettiamo 6, vedete che lui sta disegnando correttamente l'esagono. Bene, allora, questo l'abbiamo fatto, però come vi dicevo, quello che manca ancora, il grosso pezzo che manca ancora nei costrutti è l'IF, perché come vi dicevo, il programma è una sequenza di istruzioni e qui esegue sempre le stesse istruzioni, sempre nello stesso ordine, quindi l'unica cosa che può modificare il funzionamento del programma sono i valori che possono essere diversi, a seconda dei valori che noi inseriamo dentro, tramite la tastiera. Tuttavia, noi potremmo, per esempio, faccio un esempio molto semplice, decidere che il nostro programma deve poter disegnare soltanto poligoni con un numero di lati minore di 10. Questo di per sé non è vietato, dobbiamo, siamo noi che decidiamo di effettuare una cosa del genere. Allora, noi come potremmo procedere? Allora, vedete che qui noi a un certo punto, vedete, questo è il pezzo che di fatto disegna il poligono, ok? Allora, come possiamo fare? Dobbiamo decidere se eseguire oppure no questo pezzo di codice. Vedete che qui cambia proprio il comportamento, nel senso che queste istruzioni vengono eseguite sempre e comunque. Queste, a questo punto, dovranno essere eseguite solo se il numero di lati è minore di 10. Come facciamo a eseguirle solo se il numero di lati è minore di 10? Abbiamo bisogno di una struttura di controllo. Vedete che noi qui per adesso abbiamo visto questo blocchetto qua, poi abbiamo visto lo stop, abbiamo visto le wait, abbiamo visto la repeat, notate che questi sono parenti stretti perché repeat 10 significa che ripete 10 o n volte. Questo ripete finché non si verifica una condizione, la vedremo più avanti e forever è facile intuire che ripete per sempre. Però c'è un altro blocco importantissimo che è questo, l'if, ok? If cosa significa? Significa che noi eseguiamo una qualche cosa solamente se è vera una certa condizione. Quindi allora noi cosa facciamo? Mettiamo qua questo if, dopodiché qui dovremo mettere una condizione. La condizione sarà se il numero di lati è minore di 10. Ok? Quindi se il numero di lati è minore di 10, noi eseguiamo questo blocchetto. Ok? Quindi vedete che noi abbiamo limitato l'esecuzione del nostro programma al solo caso in cui il numero di lati è minore di 10. Come facciamo a fare una cosa del genere? Vedete che qui c'è un blocchetto di tipo esagonale e quindi se noi andiamo qua su operatori, vedete che fino adesso abbiamo usato questo, che serviva solo a fare i calcoli, ma queste sono delle condizioni. Per esempio, se un numero è minore di un altro. Ok? Oppure questi sono gli operatori logici che vedremo tra poco. Allora, come faccio a dire se un numero è minore di un altro? Va bene, allora io posso prendere questo, lo trascino qua e quindi io cosa dovrò dire? Se il mio numero di lati è minore di 10, quindi il 10 ce lo scrivo subito. Scusate, ho schiacciato per errore. Il 10 ce lo scrivo subito e poi qua ci devo mettere il numero di lati. Come faccio? Beh, vado a prendere la mia variabile e gliela incastro lì. Quindi, in sostanza, per la prima volta noi abbiamo messo all'interno del nostro programma tutte le strutture di programmazione che sono indispensabili. Oltre, ovviamente, all'assegnazione di variabili e al cambio di valori all'interno delle variabili. Però, sostanzialmente, cosa abbiamo messo? Abbiamo inserito un ciclo e poi abbiamo messo l'if. Tramite queste cose base noi siamo in grado di realizzare di fatto qualsiasi programma in modo più o meno semplice, naturalmente. Ora, ripeto, noi cosa facciamo? Chiediamo i due dati. Queste sono assegnazioni, quindi il concetto di variabile è importantissimo. Quindi noi abbiamo il concetto di variabile, poi il concetto di ciclo, di istruzioni e il concetto di if. L'if, come vi dicevo, serve a far sì che il programma si possa comportare in modo diverso a seconda di quello che noi vogliamo. In particolar modo, qui, a seconda del numero che ne abbiamo messo, questo pezzo di codice, questo repeat, queste istruzioni, che sono tre istruzioni, però ripetute, per esempio, quattro volte, quindi sarebbero dodici, queste dodici istruzioni qua vengono eseguite solamente se il numero di lati è minore di dieci. è una condizione assolutamente necessaria. Per cui proviamo di nuovo, allora mettiamo di nuovo sessanta, mettiamo di nuovo lati sei, vedete che non è successo assolutamente niente, nel senso che si comporta esattamente come prima, si comporta esattamente come prima per il semplice motivo che il numero di lati è sei e sei è minore di dieci. Quindi, se il numero di lati è minore di dieci e qui è sei, allora esegui questo. Quindi, il paradigma è se allora, ok? Proviamo a rilanciarlo e questa volta, siccome notate che abbiamo messo strettamente minore, quindi mettiamo pure dieci, allora, lunghezza al lato mettiamo al solito sessanta e poi mettiamo un numero di lati dieci. Vedete che lui si è fermato e non ha disegnato proprio nulla. Vogliamo vedere, vogliamo per esempio far visualizzare un messaggio in cui, da cui emerga chiaramente che c'è un errore, nel senso che il numero di lati è errato, va bene, allora smontiamo questo nostro blocchetto, andiamo a prendere, anziché il blocchetto if, andiamo a prendere il blocchetto if then else. Allora, if then, cioè, se allora, se questa condizione è vera, esegue questo. Quest'altro blocchetto è un po' più raffinato, se la condizione è vera, esegue questo, ok? Quindi buttiamo via questo, prendiamo questo, lo incastriamo lì dentro, lo incastriamo qua, ok? Poi, questo qui lo andiamo a rimettere al suo posto lì. Vedete, a questo punto, se il numero di lati è minore di 10, disegno il poligono. Altrimenti, vedete che qua c'è uno spazio libero e allora, se c'è uno spazio libero, mi sembra ragionevole che noi possiamo incastrarci qualcosa qui dentro, scrivendo numero di lati errato, numero di lati errato, ok? Quindi a questo punto abbiamo fatto if, then, cioè se, allora eseguo questo, altrimenti, quindi se il numero di lati è minore di 10, eseguo questo pezzo, altrimenti eseguo quest'altro pezzo. Proviamolo. Vedete, adesso se io metto 60 e poi ci metto 6 e me lo disegna come sempre perché non c'è nessuna particolare differenza. Adesso ci riproviamo, ci mettiamo sempre 60, però ci mettiamo 10 e vedete che lui mi dice numero di lati errato. Quindi, per ripetere ancora una volta, noi abbiamo visto il concetto di assegnazione di dati in una variabile, quindi una cosa del tipo lunghezza-lato uguale a ansvair. Abbiamo anche visto, tra l'altro, come cambiare valori ad una variabile, ma qui non c'è. Dopodiché, come cambiare valori nel senso di come applicare delle formule su questi valori e dopodiché invece abbiamo visto il concetto di ciclo che serve sostanzialmente per motivi pratici a evitare di ripetere più volte lo stesso elenco di linee di codice e poi questo, lift and else, che è il concetto base, forse quello più importante della programmazione, perché permette di eseguire questo oppure questo a seconda di questa condizione. Vedete che la condizione è fatta con questa forma esagono, mentre invece altri blocchetti sono fatti con forme più arrotondate. Ogni forma ha il suo preciso scopo. Bene, quindi questo significa sostanzialmente che siamo riusciti a vedere lift and else. Ora, direi che possiamo metterci a fare un esercizio decisamente più complicato. Quindi, questo lo possiamo cancellare e partiamo quindi con un altro esempio completamente diverso. A questo punto, lo scopo è quello molto più ambizioso, proviamo a verificare se un numero è primo. Ok? Questo naturalmente perché cerchiamo di realizzare degli esempi un po' più sofisticati per cercare di capire se tutto quello che abbiamo visto finora ci è chiaro. Ora, quando è che un numero è primo? Un numero è primo se è divisibile solamente per uno e per se stesso. Ok? Allora, quindi come farò? Beh, innanzitutto mi servirà un blocchetto iniziale, poi un blocchetto finale che per il momento mettiamo lì. Ok? Facciamo una cosa di questo genere. Ecco. Ok? Questo giusto per iniziare. Dopodiché mi servirà sicuramente una fase di input perché io avrò bisogno di sapere qual è il numero da controllare. Allora, possiamo scrivere inserire il numero da controllare. Due punti, spazio. Ok? A questo punto all'interno di Hansver ci sarà quello che ci serve. Noi ci importiamo qui Hansver e dopodiché a questo punto possiamo effettuare un'assegnazione di variabile. Tanto per cominciare creiamo una variabile e la chiamiamo numero. e a questo punto assegniamo Hansver a numero. Ok? Come abbiamo già visto, quindi questa è un'assegnazione. Quindi abbiamo letto il numero da tastiera e l'abbiamo inserito all'interno di numero e fin qua direi che nulla di che. Non ci serve solo per il momento ci serve solo il numero. Ora, come facciamo però? Abbiamo bisogno di variabili di servizio, cioè altre variabili che non sono tipicamente quelle che noi inseriamo alla tastiera. in particolar modo abbiamo bisogno di avere una variabile che contiene il divisore perché siccome noi per definizione dobbiamo controllare se il numero è divisibile per altri numeri abbiamo bisogno di una seconda variabile che contenga questo possibile numero e in particolar modo avremo anche bisogno di un costrutto che ci permetta di ripetere il controllo. Ok? Ora, in questo caso il controllo lo possiamo ripetere un certo numero di volte però a priori noi come facciamo a sapere esattamente quando ci dobbiamo fermare? Ebbene, noi ci possiamo fermare quando il nostro divisore diventerà uguale al numero. Questo perché? Perché noi sostanzialmente cosa faremo? Prenderemo il numero lo divideremo per un divisore ok? E se vediamo che la divisione dà risultato esatto ovviamente il numero non è primo altrimenti incrementiamo il divisore e riproviamo la divisione incrementiamo 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 finché il divisore non diventa uguale al numero quando diventa uguale al numero per definizione ne abbiamo terminato quindi questo blocchetto significa ripeti fino a che non si verifica questa condizione qual è la condizione? Quando il divisore è uguale al numero ok? Quindi sicuramente mi serve un ulteriore variabile la chiamerò divisore ok? E a questo punto io la metto qua quindi il mio test quello che la mia condizione che mi permetterà di uscire da questo ciclo sarà divisore uguale numero quindi mi serve un operatore e in particolar modo questo vedete? Divisore uguale numero quindi io ci vado a incastrare no scusate ecco vado a incastrarlo qua divisore uguale numero adesso andiamo a prendere anche il numero quando il divisore diventa il numero noi fermiamo questo questo ciclo ok? Quindi sostanzialmente naturalmente qui dobbiamo anche dare un valore a questo divisore quale sarà il valore iniziale di questo divisore? 2 perché il numero può essere diviso per 1 per forza ma se viene diviso per 2 o maggiori naturalmente non è più primo quindi noi dobbiamo settare divisore a 2 ok? Divisore a 2 benissimo benissimo quindi a questo punto noi per esempio possiamo incastrare questo oggetto qua ok? e in teoria qui il nostro programma è finito c'è però un piccolo problema qui sostanzialmente cosa facciamo? leggiamo il numero lo mettiamo da Hansberg lo mettiamo dentro il numero poi settiamo il divisore pari a 2 e poi continuiamo a ripetere un'operazione quale operazione? proviamo a dividere numero per divisore quindi cominciamo a costruire la nostra divisione ecco qua allora facciamo numero diviso divisore ok? allora supponiamo che il numero sia 5 e il divisore sia 2 5 diviso 2 fa 2,5 non è primo perché non è primo? non è primo perché lascia un resto c'è quel virgola 5 come facciamo a vedere il virgola 5? noi prendiamo il 2,5 lo arrotondiamo quindi prendiamo 2 o 3 non importa in questo caso arrotondiamo a 3 perché il 2,5 come nel modello 730 diventa 3 e quindi noi prendiamo il nostro 3 lo rimoltiplichiamo per il divisore e andiamo a vedere se è uguale al numero ok? quindi come facciamo? tanto per cominciare dobbiamo arrotondarlo quindi per arrotondarlo andiamo a cercare un operatore che arrotondi e vedete che c'è è qua vedete se io faccio così help e lui mi dice che cosa fa questo blocchetto e mi dice che dà il valore arrotondato del numero ok? quindi lo arrotonda ok? bene a questo punto io cosa faccio? prendo questo lo incastro qui dentro quindi a questo punto io ho preso supponiamo 5 5 diviso 2 fa 2 e mezzo arrotondato dovrebbe fare 3 adesso questo 3 lo rimoltiplico per 2 ok? che è il divisore quindi andiamo a prendere un altro operatore questo lo incastriamo qua ecco qui ci vado a mettere divisore ok? quindi a questo punto scusate a questo punto io cosa faccio? devo ho preso numero l'ho fatto ho fatto numero diviso divisore per esempio 5 diviso 2 fa 2 e mezzo l'ho arrotondato è diventato 3 3 per 2 fa 6 6 non è 5 però devo farlo questo confronto quindi se voglio fare questo confronto mi servirà questo che mi serve appunto per fare i confronti quindi io questo lo metto qua e qui cosa ci metto? ci metto numero ok? quindi numero questa condizione è vedete che numero diviso divisore quindi 5 diviso 2 fa 2 e mezzo fa 3 3 per 2 fa 6 numero non è che 5 non è 6 no? sto facendo ovviamente un esempio per cui questo significa che in quel giro il numero non è primo ora cosa me ne faccio di questa condizione? abbiamo visto poco fa che la cosa diciamo lo strumento base è naturalmente l'if ok? quindi io cosa farò? se il numero cioè vedete significa se la divisione non è riuscita o per meglio dire la divisione ha generato resto allora significa che il numero non è primo altrimenti il numero è potenzialmente primo perché naturalmente questo oggetto lo dobbiamo andare a incastrare qui dentro ok? perché dobbiamo andare a procedere con il ripetantile quindi se questa divisione ha funzionato cioè scusate non ha funzionato quindi ha dimostrato che il numero non è primo allora mi posso fermare qua in qualche modo adesso capiremo come altrimenti posso procedere procedere cosa significa? significa che devo incrementare il divisore come faccio ad incrementare il divisore? incastro qui dentro il mio blocchetto quindi faccio change divisore di 1 quindi io cosa faccio? aumento divisore di 1 ok? quindi se il numero è primo lui passerà sempre di qua facciamo un esempio adesso qui il programma è incompleto però mettiamogli magari una beh non importa facciamolo girare così prendiamo il valore 11 vedete che lui ha eseguito tutto correttamente ok? però è incompleto naturalmente bene però nel caso in cui invece la divisione abbia dato un qualche resto beh allora dobbiamo procedere in una qualche maniera allora se dobbiamo procedere in qualche maniera dobbiamo fare qualcosa dobbiamo dire per esempio che il numero è primo perché a questo punto scusate non è primo come facciamo? beh allora usiamo un'altra variabile la chiamiamo il numero è primo naturalmente gli accenti non si possono mettere non meglio mettere assolutamente non mettere gli spazi in questo modo la variabile è più comoda da usare ok? allora vedete che noi abbiamo realizzato questa variabile dopodiché noi partiamo dall'assunto che la variabile sia che il numero sia sia primo ok? quindi noi possiamo fare una cosa del genere set il numero è primo a sì queste sono cose che nei linguaggi di programmazione tradizionali non si possono fare ma qua sì perché è più semplice ok? quindi in questo momento il numero è considerato primo smette di essere primo quando si verifica questa condizione allora quindi io che cosa potrò fare in questo caso? potrò andare a mettere un'altra condizione di questo tipo qui dentro non riesco ad agganciarla ecco ok? il numero è primo tu? no ok? perché è chiaro che a questo punto il mio numero non è più primo e non è più primo perché dividendo il numero per il divisore arrotondandolo e rimoltiplicandolo non ottengo il numero e quindi il numero se sono uguali scusate se sono uguali il numero non è primo va bene? ora già così dovrebbe funzionare adesso magari qui magari aggiungiamo una stampa facciamo una cosa di questo genere ecco qua allora possiamo scrivere usiamo la join quella che avevamo già usato una volta facciamo una cosa del genere ok? e qua ci scriviamo il numero è primo due punti spazio e poi qua ci mettiamo la variabile il numero è primo che ci sarà dentro scritto sì oppure no ok il numero è primo eccolo qua perfetto questo blocchetto lo incastriamo qua quindi in questa maniera lui stamperà il numero è primo sì oppure il numero è primo no ok? proviamo mettiamo 5 vedete il numero è primo sì ok? mettiamo un altro mettiamo 12 vedete in questo caso lui non riesce a trovare la soluzione scusate un attimo il pitantil il divisore qual è il numero? sì pure qui dovrebbe essere giusto sì scusate un attimo ma qua c'è qualcosa che non quadra allora proviamo con 2 il numero è primo sì bene e prendiamo 4 il 2 è primo perché è divisibile solo per se stesso e per 1 qui no sì poi qua è giusto allora l'unica cosa che sicuramente manca a questo programma è che nel momento in cui io trovo una condizione ah ecco giusto scusate non abbiamo una condizione di uscita quando il numero non è primo perché se il numero non è primo lui esegue questo ma non incrementa il divisore allora noi cosa possiamo fare facciamo così scusate facciamo così prendiamo questo qua lo duplichiamo eccolo qua e andiamo e andiamo a incastrarlo uno lì e uno qui eccolo qua ok e lui cosa faceva? il motivo per cui funzionava non in modo corretto se il numero non era primo è che lui passava continuava a passare da questo ramo dell'if senza mai incrementare il divisore ok in realtà io non l'avevo visto perché normalmente qui adesso ci arriviamo ma si usa di solito un'altra soluzione allora proviamo così allora riproviamoci 12 vedete che il numero è primo no ok ora perché vi dicevo che si usa un'altra soluzione perché se per un qualche motivo a un certo punto si scopre che il numero non è primo e non ha molto senso aumentare il divisore conviene togliere questo e poi andare a prendere una cosa di questo genere e andarci a scrivere dentro andare a scrivere dentro al divisore andare a scrivere direttamente il numero ok in questo modo al prossimo giro il ciclo si blocca automaticamente ok è una ottimizzazione in sostanza io cosa faccio? ripeto questo ciclo fino a quando non avviene che il divisore è uguale a numero come faccio a far sì che il divisore diventi uguale a numero lo devo incrementare qui non veniva incrementato perché mancava questo pezzo qui veniva incrementato quindi se il numero era primo tutto funzionava bene ma se non era primo qui non veniva incrementato per cui in questo modo invece viene incrementato anche se il numero non è primo in questo modo in particolar modo non solo viene incrementato ma viene portato direttamente al valore di divisore di numero e in questo modo il ciclo termina immediatamente riproviamoci prendiamo un valore più grande per esempio 97 vedete che lui ci pensa un po' su e poi mi dice che il numero è primo ok bene con questo abbiamo visto anche questa parte ora io vorrei farvi vedere un'altra un'altra cosa interessante per far questo allora innanzitutto cancelliamo questa cosa che al momento non ci serve ok poi rimpiccioliamo questo adesso però io vorrei farvi vedere un'altra cosa quindi allora cominciamo da un concetto che voi dovreste avere avere ben chiaro e cioè quello del campo di esistenza di una funzione è soltanto strumentale nel senso che serve solo per raccontarvi una cosa per cui facciamo così poi facciamo così ecco allora allora vedete che qui noi abbiamo una funzione che io ho ripescato da qualche parte vedete che noi abbiamo una funzione di un qualche tipo e questa funzione viene una cosa del genere ok il suo campo di esistenza è fatto in questa maniera il meno 2 non è accettabile il meno 1 è accettabile il mezzo è accettabile lo 0 non è accettabile e tutto questo è accettabile scritto nel linguaggio matematico che penso voi sarete stati abituati a vedere alle superiori viene una cosa di questo genere tra meno 2 e meno 1 questo indica che il meno 2 non è presente meno 1 è presente unione tra 0 e infinito 0 non compreso in alternativa probabilmente l'avrete visto scritto in questa maniera meno 2 minore di x minore o uguale di meno 1 ok unito a x maggiore di 0 quindi questo è a tutti gli effetti il campo di esistenza di quella funzione ora proviamo quindi a scrivere questa questa funzione in snap ok questo lo iconizziamo ok benissimo allora proviamo a realizzare questo programma il solito blocchetto di partenza il solito blocchetto di fine questo lo espandiamo poi li facciamo così mettiamo qua benissimo allora tanto per cominciare è una funzione vedete è y uguale qualcosa f di x per cui cominciamo con il chiedere all'utente il valore di x ok quindi mettiamo qua e qui chiediamo una cosa del tipo inserire il valore di x ok poi il valore di x naturalmente finisce dentro ad answer accontentiamoci adesso dobbiamo ovviamente realizzare una variabile x quindi realizziamo una variabile x poi andiamo a mettere il valore di answer dentro la variabile x quindi dentro la x ci mettiamo la variabile answer quindi abbiamo fatto x uguale ad answer e adesso dobbiamo andare a calcolare il valore della funzione come facciamo a calcolare valore della funzione facciamo set scusate ovviamente dobbiamo prima creare la variabile y ok quindi la variabile il valore di uscita quindi a questo punto vedete che noi qui possiamo fare set y 2 e qui dentro dobbiamo inserirci la formula y uguale radice quadrata di logaritmo di x più 2 fratto x ok quindi cominciamo col costruire questi blocchetti quindi cominciamo con il costruire l'x più 2 allora x più 2 ok poi gli mettiamo il logaritmo ok allora il logaritmo è qua quindi questo andiamo a mettere qua e questo qui diventa logaritmo quindi logaritmo di x più 2 poi dobbiamo fare questo diviso x quindi prendiamo questo lo andiamo a mettere qua e qua ci mettiamo x ecco qua ok quindi logaritmo di x più 2 diviso x e adesso facciamo la radice quadrata di questa cosa quindi andiamo a ripescare un'altra di queste funzioni questo blocchetto lo andiamo a mettere lì dentro e questa era già la radice quadrata per cui siamo già a posto ok quindi questo andiamo a inserire lì dentro quindi a questo punto y conterrà radice quadrata di logaritmo di x più 2 fratto x che è esattamente quello che noi vogliamo adesso gli mettiamo una wait di un secondo giusto per avere un attimo di tempo di visualizzazione e poi gli mettiamo naturalmente il blocchetto di stop eccolo qua perfetto questo ah l'avevamo già messo va bene ok a questo punto proviamo a mettergli un valore allora il nostro campo di esistenza era maggiore di 0 quindi per esempio se noi gli mettiamo 4 funziona tutto e vedete che viene 0,66 ok se noi gli mettiamo un altro valore gli mettiamo meno 1,5 anche questo all'interno del campo di esistenza tutto funziona proviamo a mettere un valore al di fuori del campo di esistenza per esempio meno 3 ecco vedete io ho inserito meno 3 e vedete che y qua mi compare n a n n a n è un modo che ha il calcolatore per farmi capire che quella variabile non ha senso in particolar modo n a n significa not e number quindi non è un numero ok quindi noi abbiamo effettivamente verificato che il nostro campo di esistenza è quello però io vorrei evitarlo questo tipo di problema no io vorrei che i numeri inseriti fossero esclusivamente quelli accettabili ok quindi io cosa potrei fare beh potrei chiedo il valore dopodiché vado a verificare se questo valore è corretto ok allora come faccio a verificare se questo valore è corretto scusate facciamo così questo lo chiudiamo un pochettino e facciamo vedere anche la telecamera allora scusate questa la prendiamo la mettiamo lì ecco così ce l'abbiamo tutte e due ok bene allora adesso il nostro problema è riuscire a replicare questo campo di esistenza questo cerchiamo di restringere un po' vediamo se mi riesce eh non tanto bene comunque si capisce ok bene allora io che cosa devo fare devo fare a questo punto un test come quello che ho fatto prima e quindi io cosa voglio fare voglio chiedere all'utente eh l'inserimento reiterato del del mio valore fino a quando eh io non sono sicuro di essere all'interno del del mio campo di esistenza ok quindi io potrò fare una cosa di questo genere quindi io questa cosa scusate questa la aggancerò ne metterò un'altra qui dentro vedete quindi io in sostanza cosa faccio chiedo una volta dopodiché controllo la mia condizione e procedo ok quindi l'unica cosa che manca è questo per cui se io inserisco un valore corretto eh funziona più o meno tutto ammesso che io metta a posto questo e poi io procedo altrimenti lui me lo chiede nuovamente però io devo inserire questa condizione ora questa condizione è esattamente questa ok quindi io devo far sì che sia minore di meno 2 eh scusate x deve essere maggiore di meno 2 e minore di meno 1 ma anche deve essere maggiore di 0 quindi in sostanza noi potremmo fare una cosa del genere noi potremmo dire che deve essere maggiore di meno 2 ok quindi ok quindi deve essere maggiore di meno 2 ok poi deve essere minore di meno 1 ok quindi deve essere questo pezzo qua oppure maggiore di 0 quindi lo 0 ce l'abbiamo qua e facciamo un'altra freccia così quindi questo questo più questo è il campo di esistenza della nostra funzione ora come faccio a esprimere questa condizione per esprimere questa condizione io ho bisogno di variabili logiche cioè di operazioni logiche perché io sembra voi l'avete sicuramente fatto moltissime volte ma vedete voi avete fatto che qui qui c'è scritto che x deve essere maggiore di meno 2 qui c'è meno 2 qui c'è meno 1 qui c'è 0 quindi deve essere maggiore di meno 2 e contemporaneamente minore di meno 1 perché questo significa questa scritta inoltre in più unione deve essere unione in senso insiemistico per esempio questa è un'intersezione deve essere anche x maggiore di 0 ok bene allora proviamo a farlo quindi noi dobbiamo innanzitutto dire che abbiamo innanzitutto tanto per cominciare andiamo a prendere andiamo a vedere dove sono questi blocchetti sono qua vedete c'è l'end ok perché vi ricordo che questo è un end e questo è un or ok dove end significa e in italiano e nel senso che devono essere entrambi veri ok quindi per essere entrambi veri io significa che qui dentro avrò bisogno di metterci il valore che in questo caso è dentro asver e questo valore deve essere maggiore di meno 2 ok deve andare di qua in poi quindi andiamo a prendere questa e qua ci mettiamo ansver e qua ansver maggiore di meno 2 e poi contemporaneamente deve essere anche ansver minore di meno 1 ok tuttavia non deve essere siccome qua se ci fate caso noi non abbiamo abbiamo bisogno del minore uguale ma qui il minore uguale non ce l'abbiamo ok quindi noi che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare maggiore di meno 2 e in contemporanea deve essere minore di meno 1 oppure uguale a meno 1 quindi noi dobbiamo fare una cosa di questo genere e quindi dobbiamo andare a prendere ansver però ci serve ancora il pezzettino quindi deve essere quindi deve essere minore di meno 1 oppure uguale a meno 1 ok ora ansver la mettiamo qua ce ne serve un altro anche qua ecco qua ansver poi qua ci mettiamo meno 1 qua ci mettiamo meno 1 ok allora questo secondo pezzo qua ok questo secondo pezzo qua quindi minore di meno 1 oppure uguale a meno 1 è questo ok minore di meno 1 oppure uguale questo qua ok mentre invece questo maggiore di meno 2 è questo qua le due condizioni quindi maggiore di meno 2 e minore uguale a meno 1 devono essere in end logico cioè devono essere vere entrambe e infatti noi le mettiamo per così ok adesso qui purtroppo si comincia a vedere un po' pochino però vedete però vedete che deve essere deve essere maggiore di meno 2 e contemporaneamente minore o uguale di meno 1 ok benissimo quindi questa è la nostra condizione tanto per cominciare però non basta questa perché noi abbiamo qua abbiamo che deve essere minore o uguale di meno 1 uguale a questo minore o uguale di meno 1 maggiore di meno 2 oppure maggiore di 0 quindi ci serve un altro operatore in particolar modo ci serve un or oppure ok quindi noi possiamo scrivere una cosa di questo genere questo lo incastriamo lì dentro ho permesso di farcela perché è un po' ingombrante no l'ho cancellato per errore allora scusate qui lo dobbiamo rifare allora allora vediamo un po' mi serve questo qua poi allora andiamo a prendere un po' di answer scusate la dobbiamo rifare perché ecco qua perché è andato perso allora noi abbiamo un po' di operatori di questo tipo quindi deve essere maggiore di meno 2 quindi answer deve essere maggiore di meno 2 poi answer deve essere minore di meno 1 answer minore di meno 1 poi deve essere answer uguale a 1 a meno 1 quindi uguale a meno 1 ok poi questa e questa vanno messe in or quindi andiamo a prenderci un or questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua quindi deve essere minore di meno 1 oppure uguale a meno 1 ok poi questa condizione answer maggiore di 2 la mettiamo qua queste deve essere mettiamo un po' più in là per evitare di avere lo stesso problema quindi deve essere answer maggiore di meno 2 e contemporaneamente minore o uguale di meno 1 oppure adesso questo lo mettiamo qua così cerchiamo di evitare il pasticcio di prima ecco qua oppure accidenti ecco oppure x quindi answer in questo caso perché non gli abbiamo ancora dato il valore comunque sarebbe x deve essere maggiore di 0 quindi facciamo così x answer maggiore di 0 ecco fatto questo è il nostro campo di esistenza dove andiamo a metterlo? qui dentro ecco ok quindi noi cosa facciamo? aspettate che provo a restringere di nuovo questo qua in modo da fare che si veda meglio quindi leggo il valore poi vado a verificare il valore deve essere maggiore di meno 2 minore o uguale di meno 1 oppure e queste due condizioni sono in end logico cioè devono essere vere entrambe oppure maggiore di 0 ok a questo punto io posso vedete sono a posto quindi qui non ho più problemi quindi cosa succede? lui mi chiede il valore se il valore è fuori dal mio campo di esistenza me lo chiede di nuovo e poi fa il calcolo riproviamoci allora io adesso ci metto per esempio 3 3 all'interno del campo di esistenza va tutto bene io gli metto meno 3 che è al di fuori il campo di esistenza e vedete lui me lo richiede di nuovo meno 4 ok meno 5 gli metto meno 2 e di nuovo non gli piace gli metto meno 1 e gli piace ok vale 0 per inciso ok vale 0 perché se voi andate a vedere come l'ha fatta la funzione qui vale 0 ok e però io posso anche procedere e quindi per esempio io gli metto 0 e non gli piace e però gli metto 1 e gli piace ok bene quindi in sostanza abbiamo visto in pratica quelli che sono gli operatori logici ok bene abbiamo quasi finito però ci manca ancora una parte interessante oggi purtroppo la puntata verrà più lunga del previsto e ci manca ancora una parte molto interessante e adesso proviamo a vederla allora tanto per cominciare togliamo questo questo programma così siamo pronti per il prossimo programmino ecco qua invece mandiamo a tutto schermo questo mettiamo un pochino a fuoco perché la webcam qui non era molto in ordine togliamo questo foglio e procediamo con un altro concetto che vedremo un po' rapidamente ma è comunque interessante ok allora da dove deriva tutto quello che vi sto per raccontare il quello che vi sto per raccontare è legato al fatto che il il computer lavora come abbiamo visto usando assegnazioni di variabili cicli e poi if ok tutto questo avviene tramite delle condizioni logiche quindi and or e or e o oppure c'è anche un altro che si chiama exor che non abbiamo visto ora perché come è fatto come è costruito davvero allora il mattoncino fondamentale con cui è costruito un computer è questo oggettino qua questo è un transistor ok come potete vedere ha tre piedini ok ora qui vi ho fatto il disegnino del simbolo di questo transistor il simbolo del transistor è questo voi direte perché l'abbiamo visto perché questo transistor è il mattoncino di base dei calcolatori in quanto con i transistor si fanno le porte logiche per esempio la end o la nand o altre ok e da queste si fanno i circuiti di qualissiasi complessità questo per esempio è un vecchio Pentium 90 del 95 94-95 questo conteneva 3,1 milioni di transistor oggi come oggi i microprocessori moderni contengono fino a 5-6 miliardi di transistor ok quindi 1 3 milioni quello attuale fino a 5-6 miliardi questo è il transistor la cosa perché si usa il transistor perché il transistor vedete questo disegnino fa capire che è sostanzialmente immaginate un rubinetto ok io qui ho un rubinetto che giro ok e a seconda che il rubinetto sia chiuso o aperto di qui passa l'acqua ok quindi l'acqua passa di qua a seconda di come io giro e giro questo rubinetto ok ora se io giro di più il rubinetto passa più acqua e in particolar modo a seconda dell'acqua qui sarebbe la corrente elettrica e quindi a seconda di quanta corrente faccio passare quindi quanta acqua faccio passare in questo quanto giro il rubinetto altrettanto ma in proporzione molto elevata per esempio 100-200 volte tanto passerà acqua da questa parte ok ora perché vi dico questo vi dico questo perché il transistor in teoria potrebbe funzionare praticamente a qualsiasi livello infatti il transistor ad esempio viene impiegato come amplificatore nelle radio però a livello del computer viene utilizzato solo come on off cioè questo rubinetto o è aperto o è chiuso ok cosa significa aperto o chiuso significa che ha solo due stati se ha due stati usa la base 2 e cioè binaria e questo ci porta sostanzialmente alle unità di misura che vengono usate nel mondo dei computer in particolar modo nel mondo dei computer noi utilizziamo i bit ok un bit può valere 0 oppure 1 non ha altre possibilità ok bene a questo punto se noi prendiamo 8 bit 8 bit formano 1 byte queste sono cose che probabilmente già conoscete ora 1 byte se io prendo 1024 byte ottengo quello che è chiamato 1 kilobyte notate che 1024 è circa 10 alla 3 ma non è 10 alla 3 poi se io prendo 1024 kilobyte ottengo 1 megabyte 10 alla 6 byte di 1024 megabyte ottengo 1 gigabyte cioè 10 alla 9 byte 1024 gigabyte ottengo 1 terabyte e ancora 1024 terabyte ottengo 1 petabyte a cosa servono questi numeri? vedete presente che oggi come oggi un hard disk quindi l'hard disk di un computer viaggia tra 5-600 gigabyte e 4-6 terabyte quindi siamo qui ok? la memoria RAM del vostro computer può essere di 4 oppure 8 giga o anche 16 stessa cosa per i telefoni cellulari i telefoni cellulari di solito hanno 4 giga di RAM e una sessantina di giga di hard disk che è fatto sostanzialmente con una memoria flash ok? bene allora io vorrei finire questa la puntata di oggi che ahimè si è un po' trascinata facendovi vedere è una cosa molto importante allora supponiamo di voler scrivere un numero ok? allora prendiamo un numero qualsiasi prendiamo 131 virgola 31 un numero qualsiasi ok? ora come è costruito questo numero? allora questo vale 1 questo vale 30 questo vale 100 perché 100 più 30 più 1 fa 131 questa parte qui fa 0,3 e questa parte qui fa 0,01 ok? se voi li sommate tutti ottenete 131,31 bene ora a questo punto questo 30 cos'è? 3 per 10 questo 100 è 1 per 100 e questo 1 sarà 1 per 1 ok? questo 0,3 sarà 3 per 0,1 e questo 0,01 sarà 1 per 0,01 ok? ora questo 10 lo possiamo scrivere come 3 per 10 alla 1 questo lo possiamo scrivere come 1 per 10 al quadrato questo lo possiamo scrivere come 1 per 10 alla 0 questo lo possiamo scrivere come 3 per 10 alla meno 1 e questo lo possiamo scrivere come 1 per 10 alla meno 2 ok? non è cambiato nulla se voi fate la somma ovviamente viene sempre lo stesso numero bene quindi in sostanza questa è la somma di numeri e questo 10 è la nostra base perché noi normalmente lavoriamo in base 10 perché abbiamo 10 dita e quindi ci troviamo bene così ora facciamo un esempio di un numero binario prendiamo un numero binario qualsiasi per esempio 1010 virgola 11 per far capire che in base 2 in base binaria si mette un 2 qui a pedice e qua bisognerebbe mettere un 10 ok? ora facciamo lo stesso discorso questo sarà 0 l'abbiamo capito qua viene 0 per 2 alla 0 2 è la base ok? qui sarà 1 come qua ok? 1 per 2 alla 1 qui sarà 0 per 2 alla 2 e qui sarà 1 per 2 alla 3 ok? questo invece sarà 1 per 2 alla meno 1 e per finire questo sarà 1 per 2 alla meno 2 ok? se voi risommate questi questo fa 8 8 più 10 2 10 10 virgola quindi verrà 10 virgola 0 5 0 25 perché questo è un mezzo questo è un mezzo e questo è un quarto quindi viene fuori più 50 più 75 fa 10 virgola 75 ok? tutto lì allora volevo semplicemente farvi questo brevissimo ragionamento per il semplice motivo che in questo modo con secondo me in modo abbastanza semplice si può capire il funzionamento dei numeri a partire dalla nostra base 10 che è quella che noi ovviamente usiamo tutti i giorni bene a questo punto per finire abbiate pazienza insisto ancora ma è una cosa importante facciamo ancora un ultimo esempio ok? un ultimo esempio che farà capire delle cose interessanti allora noi per esempio mandiamo a tutto schermo noi cosa possiamo fare? noi facciamo il nostro solito programma facciamo così il nostro solito stop ecco qua così dopodiché prendiamo un numero molto semplicemente prendiamo un numero ecco qua così prendiamo una variabile costruiamo una variabile la chiamiamo numero dopodiché set numero e gli diamo un valore 4 ok? una cosa semplicissima poi magari aspettiamo un secondo giusto per ecco qua dopo di che cosa facciamo non facciamo nient'altro che togliergli un valore ok? quindi come facciamo andiamo qua facciamo così quindi set numero e qua ci mettiamo numero meno qualcosa ok? quindi andiamo a prenderci il nostro operatore poi qui ci mettiamo numero e qui ci mettiamo un numero che mi sono inventato io adesso capirete perché 0,72 ok? quindi io cosa ho fatto? ho messo 4 dentro numero quindi ho fatto numero quale 4 e poi ho fatto numero uguale numero meno 0,72 ho tolto 0,72 numero se io lo lancio così vedete che mi scrive 3,28 tutto come uno si aspetterebbe ok? bene adesso facciamo una cosa un po' particolare facciamo così facciamo prendiamo un if the nes lo incastriamo qua poi andiamo a prendere i nostri soliti operatori qui ci mettiamo una cosa del genere e poi facciamo se il numero è uguale a vedete che qua scrive 3,28 no? 3,28 se il numero è uguale a 3,28 allora io posso scrivere mettiamo un messaggio no? un messaggio qualsiasi e posso scrivere il numero il numero vale 3,28 ok? dopodiché facciamo così quest'altro lo mettiamo qua e invece qui il numero non vale 3,28 no? perché se il numero è uguale a 3,28 scriviamo che il numero vale 3,28 altrimenti scriviamo che il numero non vale 3,28 ok? ecco qua ora sembrerebbe un programma del tutto privo di qualsiasi utilità perché adesso il numero non richiede neanche input da tastiera di nessun genere quindi il numero è posto uguale a 4 poi al numero viene sottratto 0,72 che fa 3,28 e viene controllato se viene 3,28 ora io lo lancio e vedete la stranezza il numero non vale 3,28 ok? non le vale ora perché non le vale? perché in realtà quando io lo immagazzino qui dentro questo non è un 3,28 è qualcosa di molto simile a 3,28 ma non è 3,28 ora per completare vi faccio vedere perché non è 3,28 torniamo brevemente alla nostra alla nostra telecamera ecco qua allora il problema è questo allora noi abbiamo per esempio il numero 0,25 ok? ora 0,25 è un numero che si può descrivere con un numero affinito di cifre in base 10 senza problemi ok? in base 2 noi abbiamo visto che viene 0,01 di nuovo può essere descritto in un numero affinito di cifre quindi viene giusto ok? a patto di avere abbastanza cifre ed è fatta ok? adesso prendiamo un altro numero prendiamo un terzo ok? un terzo fa 0,33333 e così via ok? non si può descrivere in base 10 non c'è niente da fare perché è un numero che richiederebbe un numero infinito di cifre ora se io scrivo un terzo sulla base di quello che vi ho detto prima è uguale a sostanzialmente 1 per 3 alla meno 1 allora se è 1 per 3 alla meno 1 io mi aspetto che sia una cosa del tipo 0,1 in base 3 perché se qui è la base 3 questo mi verrà fuori 1 per 3 alla meno 1 è un po' come qua no? vedete? questo questo 1 qui era 1 per 2 alla meno 1 oppure quest'altro qui era 3 per 10 alla meno 1 ebbene qui viene fuori 1 per 3 alla meno 1 ora abbiamo visto quindi la stranezza estrema che è un terzo non è rappresentabile in base 10 ma è rappresentabile in base 3 molto strano no? dipende quindi dalla base nostra che noi utilizziamo di rappresentazione allora la mia domanda di prima qual era? perché questo numero questo calcolo viene errato? viene errato perché il numero 0,72 ok? va bene in base 10 ma 0,72 in base 2 è un numero periodico almeno ho fatto delle prove sembrerebbe periodico e quindi non è descrivibile per cui non essendo descrivibile noi abbiamo sempre un residuo perché noi per quante cifre ci aggiungiamo non basterà mai e questo è il motivo di quell'errore e quell'errore purtroppo è irresolubile e diciamo all'interno della della struttura stessa del del calcolatore ora per oggi abbiamo finito così anche se in ritardo e vi propongo un esercizio siccome abbiamo visto ormai praticamente tutto quello che serve delle strutture dati l'esercizio è adeguatamente complicato sulla base di quello che abbiamo già visto ebbene provate a realizzare un programma che calcoli il fattoriale ok il fattoriale di un numero quindi voi avete un numero e ne calcolate il fattoriale e e con ciò abbiamo infine terminato ci vediamo la prossima volta